Grazie 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 per questo motivo volevo che tu rimanessi qui perché bisogna lanciare la professione e lo facciamo insieme posso fare la voce mia per favore mi ha un attimino ispirato anche il maestro Capria che prima cosa mi è piaciuto tantissimo vorrei approfittare a fare una voce mia così questa è la mia voce si si muore te patta un pochino quindi volevo comunicare a un comico qui presente che tra poco manderemo in onda la pubblicità grazie non andate via ciao